Salve popolo dell'MMA, dopo il guanto di sfida lanciato da Henry Sehudo al campione dei pesi piuma Volkanovski e al presidente UFC Dana White arriva proprio la risposta del buon Danone che non sembra particolarmente aperto. Sentiamolo. I non lo sientes... He retiato and you're off all the time to do the C. Voglò che ripeto per dopo I Полkanovski e pulirò la line e pulire di Max e altri quelli qui spati. È una condona di conversazione. Alex dice che vuole piida prima di Jair e Max per riferi, ed è dire che si senti a riferimento di 155 ore. Dice che voglio farelo? I think it's a fun fight But I didn't call the shots Do you think I should do it Is what you're saying In my opinion I think it's a great fight So yes Yes Take that into consideration